Marta Florio, co-ideatrice e organizzatrice dell'evento che presentiamo qua oggi, Bolle di Malto. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Roberto Pella per averci dato questa possibilità. Successivamente i nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro presenti a questo tavolo questa mattina, l'onorevole del Mastro, l'assessore Edoardo Maiolatesi e il dottor Pierpaolo Fraddosio dell'agenzia AGEA. Successivamente chiameremo poi Roberto Costella a dare anche il suo intervento. Direi che possiamo iniziare facendo partire il video di presentazione di Bolle di Malto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che è Bolle di Malto, un evento di piazza dove vengono chiamati da tutta Italia i birrifici artigianali italiani appunto. Quindi è un momento per poter fare un giro d'Italia assaggiando le varie tipologie di birra. Bolle di Malto nasce nel 2015, è arrivato alla sua ottava edizione, purtroppo due edizioni ce le siamo perse per la strada a causa del covid. E dal 2022 siamo tornati in città a biella, mi viene da dire più prepotentemente di prima. C'è sempre stato un aumento molto importante di presenze fino ad arrivare allo scorso anno con 110.000 presenze da tutta Italia. E' un evento, come avete potuto vedere dal video, ha alto impatto sociale, ci piace definirlo così, in quanto è un evento gratuito, quindi le persone che accorrono durante Bolle di Malto possono assistere a degli importanti concerti totalmente gratuiti. E questo fa sì che molte persone possono comunque affrontare e partecipare a degli eventi di questo genere che diversamente magari non potrebbero permettersi di farlo. Non mi dilungo troppo su questa parte di cui parlerò successivamente in chiusura elencando un attimino il programma di quest'anno e chiederei subito all'onorevole Roberto Pella di prendere la parola. Grazie, grazie Marta, buongiorno a tutti. Un sincero grazie in modo particolare al collega, nonché sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, all'assessore Edoardo Maiolatesi, a te Marta, a tutti gli amici biellesi, anche al dottor Pierpaolo Pradosso per la loro presenza e per la vostra testimonianza. Guardate, sono contento di avere alla mia destra l'onorevole Del Mastro perché come me è un appassionato, un innamorato del biellese e devo riconoscergli che lui ha sempre fatto molto e ha sempre dato il massimo per valorizzare il nostro territorio in modo particolare per quelli che sono le peculiarità, le caratteristiche del nostro territorio. Lo dico perché insieme ad Andrea e insieme ai nostri gruppi politici abbiamo nelle scorse manovre economiche sempre aiutato in modo particolare il settore della birra perché lo ritorniamo essenziali, lo ritorniamo strategico, non solo dal punto di vista occupazionale ma soprattutto anche dal punto di vista del lavoro per le nuove generazioni. Sono contento che qualche giorno fa abbiate presentato questa iniziativa in Regione Piemonte alla presenza del Vice Presidente della Regione, la nostra biellese Ilano Chiorino, oltre che il Presidente Cirio e tutti i colleghi regionali della nostra provincia, perché credo che Torino e Roma devono e dovranno rappresentare due punti di megafono, di conoscenza, di far comprendere e sapere quanto a Biella si sta facendo, quanto il territorio biellese è bello. Questa iniziativa è un'iniziativa che come ha detto bene Marta è da otto anni, che viene proposta, è un'iniziativa che raccoglie centinaia e centinaia di persone, come ha detto oltre 100.000 le persone presenti nelle scorse edizioni, non solo dal territorio biellese ma dai territori limitrofi e non solo dal Piemonte ma anche dalle regioni vicine. Con queste conferenze auspichiamo di poter avere anche altre gente che cerca attraverso questi eventi di conoscere e di venire a visitare il nostro territorio. Io voglio fare i più sinceri complimenti a Marta e sono contento oggi insieme all'amico Andrea Del Mastro di aver promosso e organizzato questa iniziativa, questa conferenza, perché proprio riteniamo noi che in qualche modo svolgiamo un ruolo importante a livello parlamentare, dobbiamo in qualche modo consentire e far conoscere queste che sono le nostre bellezze e i nostri territori. Biella è un posto meraviglioso, è un posto che comunque ha delle bellezze architettoniche, delle paese passaggistiche, ma soprattutto è un territorio che sa divertirsi pur lavorando. Lo ricordo perché insomma Biella è la patria delle più importanti aziende tessile biellesi, ma è anche un territorio, nonostante siamo un po' piemontesi, che sa anche divertirsi. E questa è l'iniziativa più bella che si svolge come vedete al 26 2 settembre, quindi in molteplici giorni. E sono convinto che anche quest'anno col cambio di passo di questa amministrazione che vede alla guida una persona molto vicina ad Andrea Del Mastro e che sicuramente saprà ulteriormente imprimergli forza a quella che è l'iniziativa del Comune. Sicuramente io sono contento di avere in Edoardo Maiolatesi non solo un amico, ma un attento conoscitore delle tematiche giovanili e anche del rapportarsi con quella che è la possibilità di far vivere i momenti gioiosi di festa ai nostri ragazzi, ma concludo dicendo che Bolle di Moalta non è solamente giovani, ma anche persone con cui hanno in più come me che hanno superato i 50, ma devo dire anche con qualche persona con qualche cappello più in bianco più di me, cioè oltre i 70. E quella cosa più bella è che in quell'iniziativa lì trovi le generazioni, magari tre generazioni insieme, che vanno a divertirsi e che vanno a fare Senata. Questo è un grande successo, complimenti a te, a fede, a tutti quelli che si stanno impegnando e quindi con grande piacere che oggi siamo qui a presentarvi e sicuramente con grande piacere do la parola a un grande amico, Andrea Del Mastro, con il quale non solo mi lega una grande amicizia personale, ma comunque un grande amore per il nostro territorio. Insieme stiamo cercando di dare quel valore aggiunto proprio perché ci teniamo e che proprio perché crediamo che Biella non solo sia bella per noi, ma sia bella per tutti e Biella dobbiamo anche farla conoscere. Grazie. Grazie Roberto, grazie Marta, un saluto velocissimo e porto anche il saluto del Ministro Lollo Brigida che per improrogabili impegni precedentemente assunti non può essere qui, ma che ci teneva ad esserci non solo e non tanto per il valore economico che rappresentano i birrifici artigianali in Italia, sebbene flagellati ultimamente dall'aumento del costo dell'anidride carbonica, dall'aumento dei costi energetici. Tutto ciò nonostante sappiamo quale sia anche sotto il profilo nazionale l'importanza dei birrifici artigianali che prima della pandemia erano in costante evoluzione e crescita anche nei volumi di export oltre che nei volumi di consumo. E sappiamo quanto sapori, colori, odori delle varie parti della nostra straordinaria penisola si possano assaporare bevendo un bicchiere di birra. E questo è il motivo per cui il Ministro Lollo Brigida dell'Agricoltura avrebbe voluto fortemente essere qui presente, mi ha chiesto di portare un suo saluto. Certo, a Biella, e lo dico in questo caso da onorevole del territorio, in quei giorni si ritrovano 100.000 persone secondo l'edizione della settima e ultima edizione, credo che riusciremo a fare meglio ancora quest'anno anche se è difficile. Assaporano oltre 300 stili di birra perché dietro la birra si nasconde uno stile. Conoscono odori, sapori, colori, culture dell'Italia ed è il miglior modo, la birra, uno dei migliori modi per raccontare la nostra nazione, collegare Biella, l'Italia, al mondo perché possiamo raccontare quello che siamo senza introfretterci e chiuderci, come dire, nel campanilismo localistico, ma per il tramite delle nostre culture locali, parlare al mondo intero. Questo è un valore aggiunto che Bolle di Malto da tempo porta a Biella. Credo che sia il segreto più intimo e straordinario del successo di Bolle di Malto a Biella. Alla politica con l'amico Roberto Pella, con l'assessore Maiolatesi del Comune di Biella, il compito, semplicemente come diceva Giorgio Meloni, all'atto del suo insediamento, di lasciar lavorare, di non intralciare chi vuole lavorare, di essere al fianco chi vuole lavorare. Lo farà il Comune di Biella più ancora nel passato, lo stiamo facendo noi per quanto di nostra piccola competenza, lo farà il Ministro dell'Agricoltura ancora di più sulle politiche economiche al fianco delle birre non solo industriali, ma soprattutto artigianali, perché ci permettiamo di dire che il volume industriale è incontestabile, ma dietro quello artigianale c'è un valore aggiunto, che è l'identità più profonda italiana, è la capacità delle singole città, dei singoli territori italiani, di raccontare la complessità della nostra nazione e farla apprezzare nel mondo. Questo è il valore più straordinario, credo, di Bolla di Malto, credo che sia il segreto del successo, perché portare a Biella nella periferia solo geografica dell'impero, solo geografica. Economicamente non ci sentiamo periferia, direi neanche politicamente, dico sempre che avevamo un generale che si chiamava la Marmora che un giorno ha deciso di fare una gita fuori porta e si è fatto la breccia di Portapia, quindi non ci sentiamo periferia sotto nessun altro aspetto, ma geograficamente sì e far arrivare centomila persone a Biella è un successo straordinario che ci racconta come la birra si coniugi perfettamente con la cultura, con l'identità enogastronomica dell'Italia, cioè con tutto ciò che fa sì che l'Italia sia il paese più amato e talvolta invidiato al mondo. Non devo aggiungere altro se non una piccola considerazione, così come Biella è la periferia geografica dell'Italia, è piccolina, beh pure l'Italia, se uno apre un planisfero, mette il pollice, copre l'Italia. Ciò detto, l'Italia è la settima potenza industriale del mondo, la seconda potenza manufatturiera d'Europa, ha un prodotto che si chiama Made in Italy, all'interno del quale a pieno titolo ci stanno le birre artigianali che è esportato e invidiato da tutto il mondo e tutto sul planisfero sta in un pollice. Questo per raccontarci che è vero che ci sono luci e ombre in questa nazione, ma ci sono veramente tante luci, una di queste luci è la birra, siamo straordinariamente orgogliosi che tramite Raffaele Battista e tramite Marta Florio l'una delle luci più importanti della birra artigianale si chiami ormai storicamente Bolla di Malto e si è a Biella. Grazie mille gli interventi di Roberto Pelle e di Andrea del Mastro, veramente sentitissimi, partecipati e questa è proprio la dimostrazione di quanto Bolla di Malto si sia riuscito a insediare nel territorio e si è riuscito a trasmettere effettivamente il cuore con cui viene fatto questo evento. Adesso chiedere l'intervento dell'assessore agli eventi e le manifestazioni della città di Biella, Edoardo Maioratesi. Grazie, grazie Marta, ma non è semplice intervenire dopo Roberto e Andrea, ai quali ringrazio e va il mio caloroso ringraziamento per aver dato la possibilità alla città di Biella di essere qua oggi in un importante posto come la Camera dei Deputati, per un evento altrettanto importante come Bolla di Malto che è giunto all'ottava edizione e ogni edizione ha contrassegnato una costante crescita, si è partiti dal piazzo, dal borgo storico dove Piazza Cisterno ospitava questo evento per poi passare in Piazza Martiri perché non ci stavano più tutte le persone che volevano partecipare a questo bellissimo evento. È da pochi giorni che è arrivata anche la richiesta in comune di avere la seconda piazza diacente a Piazza Martiri, quindi questo è un altro segnale della crescita costante che questo evento ha di anno in anno, da un punto di vista dell'affluenza delle persone, un punto di aggregazione, un punto di ritrovo come diceva Roberto, non solo per giovani ma anche per famiglie, con i bambini, dalle 18 iniziano ad arrivare le persone, si trovano in momenti di cena, di condivisione di musica, quindi un momento di festa e di aggregazione ad impatto anche sociale come è stato detto. Dal punto di vista del comune sicuramente l'apporto e il supporto da quest'anno con la nuova amministrazione alla quale appunto porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione che oggi non può essere presente perché abbiamo il consiglio comunale, però ci teneva a portare il saluto a nome di tutta l'amministrazione e quindi possiamo garantire che c'è pieno supporto da parte del comune a questa iniziativa dal punto di vista logistico ma anche da un punto di vista concreto in quello che è tutto il supporto e l'organizzazione perché dietro un evento del genere c'è un lavoro incredibile di mesi e forse di un anno intero perché quando finisce un'edizione si inizia già a lavorare per l'edizione successiva perché un evento così sicuramente richiede un lavoro, un sacrificio enorme tutto l'anno, quindi io voglio davvero fare i complimenti a Marte e Raffaele per quello che fanno per il nostro territorio e per portare il nostro territorio in giro per tutta Italia e quindi vi ringrazio ancora e possiamo garantire il massimo supporto dal punto di vista del comune e ringrazio ancora tutti quanti, grazie. Grazie Edoardo, sappiamo che il comune c'è, è al nostro fianco e sapremo soprattutto che tu sei al nostro fianco e ne siamo veramente grati. Hai detto bene a ricordare l'enorme lavoro che c'è dietro Bolle di Malto che effettivamente dura tutto un anno, un evento così non si riesce a organizzare in poco tempo, specialmente l'edizione di quest'anno che veramente racchiude tanti altri piccoli eventi all'interno per dare proprio spazio a quello che è il discorso anche turistico perché venire a Bolle di Malto e bersi la birra non è l'unica finalità dell'evento ma anche quella di conoscere un territorio, spesso territori piccoli che non sono esattamente mete di turismo di massa, non siamo una città d'arte, non siamo cortina ma abbiamo comunque delle bellissime montagne che circondano il nostro territorio che meritano di essere conosciute e vissute esattamente come tutte le altre dell'arco alpino. Detto questo non a caso qua oggi abbiamo ospite Pierpaolo Fradosio che è dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dico non a caso perché giusto una settimana fa abbiamo ricevuto il patrocinio anche del già citato Ministero dell'Onorevole Lollobrigida, il MASAF. Chiedo quindi al Dottor Fradosio di dare il suo contributo, grazie. Buongiorno a tutti, allora intanto ringrazio i relatori che mi hanno preceduto che sono stati estremamente entusiasmanti nelle loro narrazioni dell'evento e spero di essere abbastanza all'altezza per darvi qualche spunto di riflessione ulteriore. Intanto volevo dirvi chi sono, io sono il direttore dell'organismo pagatore AGEA, quindi il soggetto che eroga materialmente circa 4 miliardi di aiuti a livello nazionale in prevalenza in alcune regioni, alcuni organismi pagatori esistono anche in ambito regionale, ma insomma la prevalenza del territorio italiano è coperto dalla nostra agenzia. In questa attività naturalmente entrano tutti i sostegni anche che incidono sulle varie filiere di produzione. Una parte di questi sostegni sono di ambito nazionale, il grosso sono di ambito comunitario, prevalenza comunitaria. Sull'ambito nazionale la filiera brassicola ha avuto degli interventi diciamo di tipo governativo limitati come però sono naturalmente gli interventi di tipo nazionale. Il grosso delle erogazioni, voi sapete, in agricoltura avviene in agroindustria, avviene attraverso gli aiuti comunitari. Nel mondo degli aiuti comunitari purtroppo la birra ancora sconta rispetto ad altri prodotti, ancora sconta diciamo la componente forse troppo industriale, diciamo così, o percepita come tale. In realtà, a ragione l'onorevole Dalmastro non lo è, ma rispetto al vino, diciamo le famose tretti magiche, quindi trasformazione, tradizione, territorio, diciamo nell'immaginario collettivo, anche nelle percezioni probabilmente dei legislatori comunitari non sono così vissute. Ecco perché è importante questo tipo di eventi, ecco perché è importante la valorizzazione, la valorizzazione specifica delle birre artigianali e della loro varietà, ma anche della loro integrazione di filiera e anche di gestione delle materie prime. È molto importante perché va costruito anche per avere uno spazio successivo migliore, io voglio dirlo soprattutto a livello di comunicazione, perché la comunicazione è legata a un prodotto si porta presso, come è stato osservato, il territorio. Ricordiamo tutti i progetti di sviluppo rurale che trainano territorialmente l'economia e lo trainano attraverso interventi che sono legati magari a un prodotto oltre che al territorio. Quindi è strategico, non soltanto dal punto di vista delle filiere, della filiera specifica, in questo caso la filiera Brassicola, ma è interessante proprio per le politiche di territorio, quindi per la valorizzazione integrata del territorio. È molto interessante quello che state facendo sull'acqua, che è uno dell'elemento cardine della birra. Va però ricordato che purtroppo la birra ha dei limiti rispetto al vino, scusate, ma il paragone è inevitabile. Nel TFUE, allegato 1, noi troviamo il vino come materia prima, come materia agricola. La birra non c'è, ma c'è il malto, attenzione. Quindi in realtà ci possono essere delle strade che ci portano anche a un maggior coinvolgimento diciamo delle filiere Brassicole, ma il maggior coinvolgimento nasce e si sviluppa solo a una condizione che l'acceleratore su cui mi permetto di suggerire bisognerebbe premere dal punto di vista dei produttori ed è quello del legame con le materie prime, che significa legame col territorio. Quindi gli elementi di filiera, la ricerca di malti che sono ottenuti con materie prime locali, con alcune caratteristiche specifiche, un'attenzione maggiore anche alla materia prima utilizzata dai maltifici, si porta con sé anche una presenza diversa anche nelle istituzioni europee in proiezione. Ricordiamo che noi non abbiamo al momento nessun marchio IGP sulla birra, non abbiamo nessun marchio DOP, non abbiamo nessun marchio STG, ce ne hanno altri stati membri, eppure le nostre birre, se vi consentite, non solo sono migliori, ma sono anche più legate al territorio delle birre, non so, tedesche, insomma, adesso non vorrei fare dei paragoni arditi. Però è così. Quindi c'è una riflessione che deve essere fatta anche dalle istituzioni, le istituzioni vi devono accompagnare, come diceva, citava prima bene l'onorevole Presidente del Consiglio, era giusta, cioè li dobbiamo lasciar fare, mettere nelle condizioni migliori per poter fare, non indurre a fare, ma, e quindi la filiera deve in qualche modo riflettere su questi aspetti, evolverli, perché a mio avviso ci sono degli spazi molto rilevanti, ma anche molto interessanti, e perché lo deve fare anche nell'interesse appunto dei territori a cui è legata, non soltanto cioè delle singole filiere di produzione o dei singoli stili appunto di birra che sono presentati. Grazie. Grazie mille dottor Fraddosi, ho toccato veramente uno dei temi principali di discussione anche degli stati generali della birra italiana che si terranno durante volle di malto. In merito a questo, proprio anche per andare a sottolineare quanto la birra artigianale sia comunque un consumo aumentato negli anni, sono dati usciti proprio l'altro giorno da Sobirra, che diciamo su 17,4 milioni di ettolitri complessivi prodotti, circa il 15,4% di questa produzione è destinata proprio al consumo di birra artigianale, proprio perché negli anni è aumentata sempre di più proprio la cultura e la conoscenza nei confronti di quello che è la birra artigianale, che non è solo bere un bicchiere di birra ma è riconoscere uno stile e dentro quello stile riconoscere anche un territorio che in Italia veramente sono molti e molto diversificati. E sempre in tema di food, chi meglio di Roberto Costella può introdurre il suo intervento? Roberto Costella è presidente di Slow Food, Piemonte e Val d'Aosta. Grazie. Grazie mille Marta e grazie per l'invito in questo prestigiosa aula. Io mi sento molto vicino all'intervento del dottore perché il riuscire a dare il valore agricolo, trasformare quella che è una grandissima valenza italiana, artigianale, in un atto agricolo farebbe sì che davvero ancora di più si comprendesse qual è la bontà della nostra produzione, la valenza dell'artigianalità dei nostri produttori. Perché come diceva il sottosegretario Del Mastro, in effetti la grande distribuzione, la birra industriale rappresenta circa il 97% del mercato birrario italiano. Però quel solo 3% del mondo dei birrifici artigianali è ricco di cultura, è ricco di territorio, è ricco di quel sapere che di fatto è promosso a bolle di malto. Quindi bolle di malto a mio avviso si inserisce proprio all'interno di questo segmento, all'interno di questo dialogo per far sì che possa essere un trade union. Quindi cercare di far capire ancora di più quanto sia importante puntare e lavorare su questo argomento. Una piazza meravigliosa, anch'io sono biellese quindi di fatto sono un pochino coinvolto sentimentalmente, ma vedere più di 100.000 persone che grazie alla cultura e alla filiera brassicola vengano e scoprano la nostra città è davvero un grandissimo sogno. Un sogno che nasce più di 8 anni fa, oggi siamo all'ottava edizione, edizione da cui dalla primissima, quindi da quando ancora si era in piazza Cisterna, Slow Food è stata vicino. Quindi io credo che il dialogo che si sia creato in questi anni e ancora più sempre si è ingrandito con i stati generali della birra artigianale, con i tanti appuntamenti legati anche alla presentazione della guida delle birre edita da Slow Food Editore. Quindi un insieme di contenuti di altissimo valore che creano una grande plus per tutto quello che è il mondo birrario artigianale italiano. Ultima cosa, siamo felici di poter inserire bolle di malto all'interno del percorso di avvicinamento a Terra Madre, il role to Terra Madre, quindi il claim We are Nature del salone di quest'anno che si svolgerà dal 26 al 30 settembre, vedrà come sempre questa grandissima sinergia e partnership con bolle di malto. Grazie mille. Grazie mille. Devi andare? Sì, certo. Ci mancherebbe. Allora, proseguirei facendovi un piccolo recap di quello che sarà bolle di malto 2024, l'ottava edizione. L'evento si terrà dal 26 agosto fino al 2 settembre e sarà così suddiviso in un momento che abbiamo chiamato bolle off, dal 26 al 28 agosto, un po' come il fuorisalone, abbiamo un po' copiato, dove principalmente ci saranno delle attività appunto fuori dall'evento, volte alla scoperta del territorio. ce ne saranno diverse, ne cito una in particolare per non rubare troppo tempo, che sarà la degustazione di birre in quota, ovvero sia andremo su due giornate con ovviamente una guida esperta, accompagneremo delle persone in un rifugio che si chiama Rifugio Lago della Vecchia, a 1875 metri d'altezza, e dove si terrà una piccola bolle in quota. e questo è una delle novità più particolari di quest'anno. Quindi tutti questi eventi a latere, dove saranno comprese anche delle degustazioni, mini corsi di spillatura, dei corsi di avvicinamento a quello che è la cultura brassicola, tramite degli esperti, siamo assolutamente legati a doppio filo, non solo con Slow Food, ma anche con un'altra importante associazione di categoria, che è Union Birrai. Union Birrai praticamente dalla prima edizione di Bolle di Malto ci è stata accanto per seguire tutta la parte delle degustazioni, degli avvicinamenti alla materia brassicola, e quest'anno si è addirittura intensificata, trasformando questa collaborazione in degustazioni itineranti all'interno della piazza, dove ci sarà la possibilità di fare proprio un giro d'Italia accompagnato mano per la mano da esperti che potranno ovviamente spiegare meglio quello che le persone andranno poi a trovare nei vari stand. Successivamente ci sarà l'inaugurazione il giorno 29, che è giovedì, dell'evento di piazza, l'evento principale che durerà dal 29 agosto fino al 2 di settembre, quindi da giovedì a lunedì, e qui avverrà praticamente il clou dell'evento, quindi le serate dei concerti gratuiti, tra cui voglio citare da venerdì, avremo delle grandi partecipazioni, grazie anche a una collaborazione strettissima con il primo maggio di Roma, e salirà sul palco venerdì sera la Municipal, che è nell'ambito dell'indie pop italiano, ed è uno dei cantanti emergenti appunto che hanno già calcato il palco scenico del primo maggio, e non solo. Successivamente, un grande della musica italiana, avremo sabato sera con Roy Pace e Liera e Tusca, che è una band che assolutamente porterà grandissima energia e gioia, anche perché la loro toda gioia è praticamente il simbolo, è stato il simbolo del programma Zellig per tantissimi anni. Successivamente, la domenica sera sarà una domenica tutta al femminile, con Mille, Mrs. Mille, che è sempre una emergente del comparto del primo maggio, e successivamente ci sarà lo spettacolo di Nina Zilli, che tutti noi conosciamo, sia per le sue bellissime canzoni, ma anche per essere un personaggio televisivo dato dalla sua partecipazione a X Factor. Finiremo il lunedì sera in bellezza, con un grande della musica classica, no, pop italiana, che è Enrico Ruggeri, e qui andremo veramente a prendere un pubblico assolutamente eterogeneo, come diceva prima anche l'onorevole Pella, perché veramente ha toccato tantissime, con le sue canzoni ha toccato tantissime generazioni. E questa è la parte, diciamo, più ludica di quello che è Bolle di Malto. Ma Bolle di Malto non è soltanto questa parte qui, Bolle di Malto è anche cultura. E quest'anno, con questa mostra sull'acqua, che abbiamo pensato in realtà non dall'altro giorno, ma è una narrazione che a noi è sempre stata cara, fin dal primo momento in cui abbiamo iniziato a pensare di fare questo evento, e l'acqua per noi è un elemento fondamentale nel territorio biellese. L'acqua è stata il petrolio, la forza motrice della nascita dell'industria tessile, per cui ovviamente Biella è forse più famosa per il tessile, per i tessuti che ha prodotto negli anni a livello internazionale, con vari marchi che sono conosciutissimi. E tutto questo grazie appunto a quest'acqua molto particolare, con delle proprietà organolettiche che difficilmente si trovano altrove. Un'acqua molto poco calcarea, che permette ovviamente certi tipi di lavorazioni nel comparto tessile. Queste lavorazioni, che adesso ovviamente non mi dilungo a spiegare, perché se no annoierei solo, si possono ritrovare anche proprio nella produzione della birra, motivo per cui una grande azienda, di cui non cito il nome, è stata la prima birrificio artigianale italiano nel 1846, e nacque a Biella non a caso, proprio grazie a questa buonissima acqua di cui ne siamo appunto fieri e ne siamo anche pieni in un certo qual modo. Cinque valli, cinque valli che solcano il territorio biellese e sono cinque valli che noi vogliamo far conoscere anche da un punto di vista di turismo slow. E quindi qua ci sono anche delle escursioni, dei trekking in e-bike e altre attività che si andranno a fare in questi giorni. Direi, penso di aver detto tutto, Raffaele, ok, guardo la regia per vedere se non ho dimenticato nulla. E niente, non posso far altro che ringraziare tutti i nostri ospiti, illustri ospiti di oggi, che hanno avuto la pazienza e la voglia anche di venire qua a Roma in questo contesto fantastico della Camera dei Deputati e non posso far altro che invitarvi a Biella dal 26 agosto al 2 settembre per Bolle di Malto. Grazie.